Ehi, 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 quindi poi tipo burrone dai, scendi, giù, giù, andiamo se passa il gargamella passiamo anche noi, dai il problema è che lui non topica noi si stiamo già giù e l'acqua non esce guardate, incredibile non c'è qui un cazzo di acqua parca tratta niente e vedi che è vuoto guarda guarda una roba guarda qui vuol dire che qui l'acqua non passa l'acqua parte da lì e vedi che di lì è pulito perchè qua non c'è niente perchè non passa di qui se non c'erano le foglie no è vero non c'è passato un cazzo l'acqua esce solo da lì e basta sei attento a stare sotto che il 16 di aprile beh c'hai ragione non ci avevo fatto caso che era grosso così però eh porca loca che grosso sia sai che mare di merda che viene giù qui? no di cacca no però tanto pulitissima non è figa roba che sei giù qua ragazzi non so neanche se mai ci conviene venire fino qua no ma di qua non ci conviene affatto ma cazzini di qua fai no è che pulisci questa roba qua dai e torni indietro però e poi il problema non è pulire perchè se lo fai una volta e poi dopo tre settimane si fa una notte come questa c'è tutto da qui